Oh, ma credi veramente di poterti liberare di me? Voglio cambiare strada. Ecco, basta posame. Ma può giovare al personaggio? Sì, ma non lo voglio fare più. E devi stare zitto! Lillo, è da mesi che ti parlo. Sono stanca di farti da madre e non so più come dirtelo. Vorrei tanto entrare in azienda. Lillo, ma cosa ne sai tu di vino? Senti la nuce? No. No. Anguria, possibile? No! È bravissima, teso me la porto come a perlino. Lui è un artista. È un artista, Barons. Insomma, vanno letto insieme. Preparatevi a una serie di scene mai viste! No! Che te vanno via i colpi proprio. Mannaggia oggi, che sti sei? Che matto che sei. Sei il mito di mia nonna. Io devo uccidere posame. Posame ne come amame. Non si tocca. Mamma mia, che astio! mentre ho va farlo. No. No. No 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 no.